Buonasera a tutte e a tutti, prima di dare benvenuto ai miei interlocutori per questa seconda puntata del nostro incontro odierno su fascismo capitale, il luogo del fascismo a Roma, una breve parola introduttiva, sono Lutz Klinkham e parlo dalla sede dell'Istituto Storico Germanico di Roma, un istituto che da più di 130 anni è presente nella città eterna, la nostra cabina di regia sta a Milano, ringrazio Igor Pizzirusso che ci mette in collegamento e ci fornisce commenti e domande via chat, alla console qui con me Cristian Boiac Lombardi, per motivi tecnici ma anche per un piacere, è qui con me in sala Leonardo Rappone, così almeno possiamo parlare di una mezza tavola rotonda il cui prolungamento virtuale ci porta fino a Trieste, a Paolo Nicoloso, mentre dalle loro sedi romane sono collegate con noi i Giavascego e Lidia Piccioni. Possiamo constatare, e penso anche vedendo il pubblico nella nostra iniziativa stamani, l'interesse per l'ascito architettonico del fascismo è particolarmente forte all'estero, perché? Nel caso della Germania la risposta sembra evidente, visto che dal 1945 ci si pone la domanda di come fare i conti con il passato del nazismo, anche con quello lasciato in muratura. Potremmo guardare a Nuremberg per esempio, luogo della Donato Oceanica e del regime nazista, dove vennero celebrati i primi processi post bellici contro i criminali nazisti, oppure a Monaco di Baviera, dove i tempietti dei cosiddetti martiri nazisti furono fatto brillare in aria nel 1946 su ordine del governo militare americano. Quindi in una prospettiva comparata è particolarmente interessante vedere come un paese amico, come la Repubblica italiana, abbia declinato questo tema, ossia come abbia trattato i lasciti della dittatura fascista. E questo vale, a mio avviso, per tanti altri paesi, perché non sono soltanto tanti colleghi tedeschi che si interessano e scrivono su questi argomenti, le stesse domande si sono poste e continuano a porsi anche tanti scienziati all'estero. E potremmo citare anche una serie di ricerche sul tema, per esempio i saggi nel volume Il culto del Duce, curato da Stephen Gander, Christopher Duggan e Giuliana Pieri. Poi anche Carter e Martin hanno analizzato il caso dell'apoteosi del fascismo alforo italico, opera di Luigi Montanarini, che abbiamo visto anche stamattina. Possiamo aggiungere anche le ricerche della stessa Flaminia Bartolini, che si è adottorata all'Università di Cambridge, che ha analizzato, tra l'altro in una delle sue pubblicazioni, il caso del luogo di abitazione di Mussolini dentro Villa Torlonia. Potremmo citare anche le ricerche dello storico svedese, Håkan Hökerberg, che ha curato un bel volume comparativo sull'architettura come propaganda nei regimi totalitari del XX secolo e ha messo insieme un'equipe internazionale di autori, tra cui ovviamente anche degli studiosi italiani, come Giorgio Ciucci e Paolo Nicoloso, qui presente. Last but not least è stato già citato Ruth Ben Ghiatt, con la sua domanda euristicamente efficace, ma che ha suscitato delle reazioni molto risentite in Italia. Una domanda che tra l'altro si pongono tanti giornalisti europei quando vengono mandati in Italia, cioè se esiste un riutilizzo troppo disinvolto dai monumenti dell'epoca fascista. Sarebbe interessante sapere che cosa pensano gli ambasciatori di tutto il mondo quando sul loro percorso in macchina verso il Ministero degli Affari Esteri debbono passare sotto il grande obelisco ineggiante a Mussolini Dux. Pensano di vedere un documento storico? E se è un documento, dove si trova la documentazione relativa ad esso? Ponendo questa domanda da non italiano, non significa seguire un impianto accusatorio, si vuole piuttosto indagare sul carattere politico dell'arte, in particolare dell'architettura monumentale, sul coinvolgimento degli artisti e architetti nella politica del regime, sulle condizioni di nascita di queste espressioni artistiche. Abbiamo sentito stamattina che è particolarmente forte la questione della continuità visiva di questa eredità e del dibattito costante sul suo eventuale riutilizzo, la riattualizzazione, la risemantizzazione di questo passato. In una comunità europea ci sono anche sguardi incrociati. Forse ci si vorrebbe anche imparare qualcosa dai vicini, nel bene e nel male. Chissà se gli austriaci nel desiderio di trasformare la casa di nascita di Adolf Hitler in casa della responsabilità abbiano voluto guardarsi dalla situazione di predappio. Forse l'hanno preso come un antimodello. Se questo interesse da fuori per un'arte che è difficile vedere come ha politica o meramente estetica, suscita delle reazioni piccate, come se il fascismo fosse stato un fenomeno puramente italiano e non una dittatura con forti ripercussioni in Europa e nel mondo, mi pare di vedere in ciò una sorta di riflesso di difesa, derivante probabilmente da quei meccanismi di rimozione sulle quali Filippo Focardi ha scritto importanti pagine. Hanno insistito i relatori della mattinata sulla contestualizzazione del dibattito attorno ai monumenti del fascismo. Il trattamento degli edifici del regime nasconde una continua rinnegoziazione del passato, con tanti attori e andamenti non necessariamente lineari, come ha spiegato Giorgio Luccaroni. Quello che è venuto fuori è lo spartiacque costituito dagli anni 90, un vero e proprio nodo politico a mio avviso, nel caso sia via dei fori imperiali, ma anche nel caso dei murali del regime. Un altro momento di questo dibattito è costituito a mio avviso dalla ricerca di una identità riconciliatoria del paese post-caduta mur di Berlino. Quando nel 2006 l'allora sindaco Veltroni ha deciso di fare il museo della villa dentro il casino nobile di Villa Torlonia, ha dichiarato, almeno così venne riportato dal giornale La Repubblica, e cito, la storia va vissuta, non cancellata o camufata. Verrà qualche nostalgico, non è un problema. Fine della citazione. Scusate se mi sono dilungato un pochino, vengo ai partecipanti della tavola rotonda e i miei interlocutori. Paolo Nicoloso, professore di storia dell'architettura all'Università degli Studi di Trieste. Lidia Piccioni, professoressa alla Sapienza, Università di Roma e membro del direttivo IRCIFAR. Leonardo Rappone, professore all'Università della Tusce, direttore della rivista Studi Storici e in Java Cego, giornalista scrittrice e insegna anche in una università americana in Italia. Intervengono nell'ordine alfabetico e affronteranno il nostro tema da diverse angolature, ognuno dal suo punto di vista ovviamente, dalla storia coloniale a quella urbana, dagli architetti coinvolti nell'architettura del fascismo fino alla storia del fascismo stesso. Facciamo un primo giro di tavola e lasciamo lo spazio a loro di sviluppare il loro pensiero sui temi in questione, che non sono proprio pochi, e li presento poi brevemente, man mano entreranno. Poi spero di poter raccogliere anche delle domande, suggerimenti e commenti dal pubblico, possono essere inviati via chat al manager del nostro incontro a Milano. Iniziamo il nostro giro di interventi con Paolo Nicoloso, professore di storia dell'architettura all'Università delle Studi di Trieste, è autore di saggi su Gustavo Giovanoni, Giuseppe Terragni, Giulio Carlo Hagan, ha scritto le voci urbanistica E42 nel dizionario del fascismo pubblicato con Dainaudi, ed è autore di importanti monografie, tra cui gli architetti di Mussolini, Mussolini architetto, e una biografia di Marcello Piacentini con il significativo sottotitolo Architettura e Potere. Quindi Paolo ti prego di intervenire per primo. Grazie per l'invito. Grazie per l'invito. Provo un po' a rispondere alle domande che ci ha fatto Lutz. Esiste una continuità architettonica del fascismo e la domanda è perché esiste questa continuità? Perché il fascismo vuole lasciare un segno di sé, questo è chiaro, lo dice Mussolini stesso nel aprile del 24, dice Roma deve lasciare ai posteri l'immagine del tempo di Mussolini. Ecco, inizialmente non c'è un programma preciso, si procede in maniera piuttosto incerta. Io vorrei farvi vedere una serie di architetture che sono rappresentative di questa volontà del... Ecco, spero che lo vediate, no? Ecco, alcuni edifici che sono quelli più rappresentativi di questa volontà di Mussolini di lasciare un segno ai posteri. Abbiamo la Casa Madre dei Mutilati che viene inaugurata nel 28, il primo grande edificio. Qui vedete Mussolini e Piacentini, Piacentini è l'autore della progettazione. e poi abbiamo il Foro Mussolini, il Foro Mussolini che viene inaugurato nel 32 e progettato da Del Debbio e poi però l'opera viene continuata negli anni 30 da Luigi Moretti. Ecco, lo conosciamo tutti. Questo è l'intervento di Luigi Moretti nel pianpliamento del foro. E poi c'è il Ministero delle Corporazioni in via Veneto, il primo ministero costruito dal fascismo, anche questo progettato da Marcello Piacentini. Poi altro intervento simbolo è la città universitaria, l'intervento più grosso assieme all'intervento fatto a Brescia in Piazza della Vittoria. Anche qui il progetto è di Piacentini, coordinato da Piacentini con altri architetti. E poi, avete parlato stamattina, il concorso per il Palazzo dell'Vittorio in via dell'Impero. Qui bisogna costruire il palazzo che rappresenta il fascismo, no? E quindi questo tema centrale poi in una zona strategica di Roma. Ecco, poi via della conciliazione. Ancora Marcello Piacentini, l'apertura di questa inutile strada, ma è una grande piazza in realtà. E poi ancora, qui vedete Piacentini e Mussolini, perché Piacentini è di nuovo l'autore di questa operazione. E poi l'intervento più importante del fascismo, genericamente il più significativo, che è la città musoliniana, che è l'E42. E qui è la città modello, la città a cui architettura deve servire come modello per le altre architetture. Abbiamo sentito un attimo fa il Palazzo dell'Vittorio, il Ministero degli Esteri, iniziato nel 1937, progettato da Foschini. Quasi in contemporanea il Ministero dell'Africa italiana, siamo 1938. E poi 1938 la stazione Termini, progettata da Marzoni, con queste colonne binate che hanno la stessa dimensione delle colonne del Pantio. Ecco, qui si coglie forte questa volontà del fascismo di lasciare un'impronta. Ecco, vi dicevo prima, non c'è un programma ampio. Inizialmente si procede a tentativi, direi, e con grandi indecisioni, con la storia del Palazzo dell'Vittorio, da prima sulla via dei Fori Imperiali, poi vicino a Porta San Paolo, poi a nord di Roma, è dimostrativa di questa mancanza di chiadezza. Le cose cambiano dopo le 42. Allora sì, lì nasce un programma. E forse l'evento più interessante di questo programma è il piano regolatore del 1941, che viene affidato a Marcello Piacentini. Qui lo vedete indicato nella foto. Qui siamo nell'ottobre del 1941, quando questo grande piano viene presentato a Mussolini. E questo piano, dice Piacentini, deve dare a Roma una unità. Dice, un piano la cui grandezza deve sgomentare. Ecco, questo è un piano, diciamo, ampio, coordinato, organico, per proprio dare, fare sì che Roma lascia un'impronta per i posti, per i decenni a venire. Nello stesso giorno viene presentato da Moretti il piano per la zona di nord, per il foro Mussolini. Ecco, ci sono alcune zone della città che vengono interessate da questo piano, ma ci sono diverse. Una, per esempio, è la zona del Pantheon, qui vedete il progetto di Moretti, ma c'è anche un progetto per la zona della stazione Termini, c'è un progetto per la zona di Piazza Venezia, e via, e via, e via dicendo. Ecco, tra tutti gli architetti, quello che domina la scena è senz'altro Marcello Piacentini, che in tutte le cose che vi ho detto entra, vi partecipa, o come appunto progettista, oppure come consultore. Per cui, ecco, Piacentini domina la scena e è all'apice di un gruppo di potere fortissimo. Lui è al vertice, poi c'è Alberto Cazzabini, che è deputato, poi diventa senatore ed è il preside della scuola di Napoli, poi c'è Foschini, poi c'è Gustavo Giovannoni. Ecco, questo gruppo è quello che maggiormente influenza l'architettura. Gli architetti partecipano in che modo? Beh, partecipano, sono volenterosi, partecipano volenterosi al progetto di costruzione di un consenso politico che avviene attraverso l'architettura. L'architettura appunto che è fatta per durare, per lasciare ai posteri un'immagine del tempo del fascismo, per lasciare ai posteri un'immagine positiva del fascismo. Si costruiscono appunto l'università, si costruisce la stazione, si costruisce per il popolo, questo è il fascismo, l'immagine che vuole dare. Ecco, volevo però portare un'ultima riflessione su alcuni edifici, in particolare su uno che è il palazzo della civiltà italiana di La Padula. Ecco, il fascismo costruisce anche degli edifici che sono delle proprie, delle macchine identitarie, dei dispositivi identitari, edifici che devono trasmettere dei messaggi. Dobbiamo pensare che appunto il fascismo non, questo edificio viene progettato nel 1938, è già finito nel 1943, il fascismo non pensava di crollare nel 1943. Quindi questi edifici dovevano continuare dopo la guerra, in un contesto che era il contesto del fascismo, a mandare dei messaggi. Qui il messaggio più chiaro era il messaggio appunto di una continuità tra il presente fascista e l'antica Roma, questa continuità imperiale. Quindi edifici come questo che hanno appunto una funzione di essere pensati come macchine identitarie, macchine ideologiche. Ecco, io mi fermerei anche qui, magari se poi ci sono altre domande. Grazie Paolo. per questa sottolineatura dell'importanza degli architetti. Ho sentito la parola volentorosi e quindi è importante avere presente questo come elemento di continuità, credo. Questo è un argomento secondo me ancora da approfondire successivamente. Passerei adesso al prossimo mettamento di Lidia Piccioni che insegna storia contemporanea al Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte e Spettacolo, alla Sapienza che ha i suoi principali ambiti di ricerca e l'insegnamento sono lo studio della società urbana e le trasformazioni del territorio tra l'Ottocento e Novecento e con particolare attenzione alla città di Roma. Ha pubblicato importanti saggi e monografie tra cui San Lorenzo, un quartiere romano durante il fascismo ma anche le città di intorno di trasformazioni di identità in età contemporanea Roma a confronto. Quindi dalla prospettiva di storia urbana Lidia come sono da da come da vedere questo dibattito non solo recente ma è proprio una continuità. Sì, grazie mi sentite bene sì io ovviamente ringrazio molto sia l'Istituto Nazionale che l'IRSIFAR di cui insomma da tanti anni faccio parte per l'opportunità di riflettere su questi temi e devo dire che quando appunto ho saputo che avrei partecipato a questa tavola rotonda improvvisamente una mattina uscendo di casa mi sono accorta che a un passo da casa mia io abito nel quartiere Trieste per chi conosce Roma e all'angolo tra via Chiana e via Tagliamento sopra una edicola della della Madonna che fa parte delle tante edicole delle tante madonnine che sono state edificate nella città durante la seconda guerra mondiale per dedicare appunto la città alla Vergine per appunto chiedere la sua protezione quindi sopra un'immagine che è tuttora molto importante per la popolazione molte persone si fermano si fanno il segno della croce quando passano con l'autobus e gli portano i fiori quindi sopra un luogo molto osservato direi dalla popolazione del quartiere subito sopra continuando diciamo la facciata troneggia un'enorme lupa affiancata da un altrettanto enorme fascio littorio diciamo scollocata subito immediatamente sopra ora io abito in questa zona di Roma da 30 anni abito da due anni proprio a Via Chiana e non ci avevo fatto mai caso o meglio diciamo l'avevo in qualche modo interiorizzata come una decorazione scontata di questi palazzi che poiché sono in qualche modo una continuazione del quartiere Coppedè che è subito più avanti sono pieni appunto di freggi di ornamenti e io penso che se non ci avevo fatto caso io che insomma ho fatto del fascismo uno dei temi più importanti diciamo del mio studio insomma di questi anni di lavoro e figuriamoci diciamo la maggior parte appunto delle persone che ci passano sotto e non solo ma diciamo proprio a questo punto invece osservandola con grande attenzione e ripeto anche con un po' di stupefazione proprio per il fatto che non ci avevo mai fatto attenzione quello che mi ha molto colpito non è solo che sta ancora lì ma che non c'è nessun segno di tentativo di rimozione nessuna lesione diciamo a questa enorme rappresentazione della lupe del fascio littorio e perlomeno questa è stata un po' la riflessione che ho fatto io credo che questa mancanza di un tentativo di rimuoverla anzi hanno restaurato il palazzo e quindi è perfettamente restaurata e ripitturata la dice lunga io direi sul tessuto sociale prevalente appunto in questo quartiere che è un quartiere è stato fin dalla fondazione e lo è tuttora ma soprattutto diciamo negli anni 30-40 è stato un quartiere diciamo di media-alta borghesia quindi uno dei quartieri della borghesia appunto fascista è comunque legata al regime agli uffici alle professioni a tutto quello che sappiamo di Roma in quegli anni e allora appunto non hanno neanche provato a levarla per esempio dopo il 25 aprile 25 volevo dire luglio quando tante di queste immagini sono state evidentemente picconate abbattute e via discorrendo allora io penso che questa appunto iniziativa di mappatura che è stata promossa dall'istituto nazionale ripresa appunto dall'IRSIFAR è sicuramente molto molto importante ed è interessante provare a farla anche in stretto rapporto con un'analisi del tessuto territoriale dove i vari segni sono situati cioè provare il più possibile a mettere in rapporto questi due aspetti soprattutto io direi questi segni più piccoli non tanto i grandi monumenti no? perché quelli chiaramente ma questi piccoli spie no? come richiami diciamo del regime che sono ovunque perché sono proprio questi piccoli freggi dell'arredo urbano che io credo in qualche modo continuano a dare normalità agli anni del regime cioè ci passiamo davanti quotidianamente no? e in qualche modo li abbiamo introiettati quasi inconsapevolmente e fatto e fatti appunto propri come normali no? nel nostro paesaggio allora io penso che sia molto utile provare appunto a mapparli a rilevarli non dico uno per uno perché sono proprio tanti no? però comunque il più possibili in stretto contatto con il tessuto urbano che li ha ospitati e che in qualche modo nel tempo li ha conservati e protetti no? e quindi da un lato rilevare appunto la loro presenza e dall'altro anche però provare a riflettere sul loro stato di conservazione sul fatto appunto se ci sono stati tentativi di rimozione diciamo provare anche un po' a ricostruire la loro storia rispetto a quel territorio no? e quindi al tempo stesso anche provare a rilevare viceversa i segni di un'eventuale presenza cancellata no? perché spesso come sappiamo bene e proprio le cose cancellate in qualche modo sono più evidenti e più forti no? pensiamo a quanti spazi lasciati no? da fasci rittori scarpellati no? in realtà sono delle presenze fortissime perché se ne vede proprio è come diciamo l'ombra no? l'ombra di quegli oggetti che resta sui muri resta nelle nostre strade ed è estremamente riconoscibile allora appunto e in qualche modo sono quasi più evocative no? dei segni fisicamente rimasti perché appunto io penso che tutti questi segni da un lato sono diventati invisibili appunto fanno parte del nostro paesaggio quotidiano ci passiamo davanti in continuazione come se fosse naturale in qualche modo che fossero lì dall'altra la loro presenza il loro stato di conservazione appunto anche ci parla io credo dell'essenza profonda di un territorio e anche e questo mi riallaccio a quello che secondo me molto giustamente diceva questa mattina Giulio Albanese anche della sua storia repubblicana cioè ci parlano appunto della storia successiva di quel territorio che è continuato ad essere abbellito da quei fregi e da quegli oggetti e quindi questo lavoro di mappatura e di riflessione appunto su quello che c'è su come è stato conservato su come è stato invece rimosso su come non è stato rimosso può contribuire a fornirci delle chiavi di lettura no molto stimolanti può aggiungersi diciamo le molte chiavi di lettura possibili sulle singole anime di questa città e più in generale delle nostre città no Roma in particolare è stato sempre detto è una città fatta di tanti pezzetti di tanti tessere di un mosaico ma questo è vero in realtà per tutte le grandi città no e quindi appunto possono diventare tanti indicatori di lettura articolata dei territori urbani ora per finire questo primo giro io in questi giorni sempre spinta appunto dall'invito alla partecipazione di questa tavola rotonda e mi stavo riguardando il testo programmatico di un bel progetto italo-francese che ha esplorato le dinamiche della nuova monumentalità nella città nelle città balcaniche e nelle città del Mediterraneo a partire dagli anni 90 che adesso è un proprio in questi giorni è uscito il libro a cura di Alessandro Gallicchio e di Pierre Santé in questo testo programmatico veniva notato che oggi l'Europa sembra oscillare tra amnesie collettive e ipersensibilità memoriali non è un concetto originale ma secondo me è molto ben detto è molto ben stigmatizzato perché proprio questa alternanza tra amnesie collettive appunto tra il non vedere tra passarci davanti tutti i giorni senza rendercene conto e invece improvvisamente nei dibattiti di questi ultimi mesi questa ipersensibilità questa suscettibilità estrema davanti a degli oggetti del nostro passato arrivate fino a noi e in effetti quello che è accaduto e sta accadendo appunto rispetto proprio al tema che stiamo che stiamo trattando oggi cioè della memoria dei luoghi fascisti ma io credo che parlando di memoria del fascismo all'interno del tessuto urbano e territoriale è importante anche fare delle distinzioni tra diversi livelli abbiamo la odonomastica abbiamo i monumenti di singole personalità o di singoli eventi ecco su questi aspetti io mi sentirei di essere più netta di essere più forte nel mio giudizio personalmente perché ci troviamo in presenza di messaggi molto diretti tra lo Stato e il cittadino no? tra appunto l'alto e il basso tra l'alto e la società civile pensiamo ovviamente a tutte le riflessioni sulla pedagogia patriottica sul nation building e via discorrendo che insomma hanno riempito il dibattito di questi anni e poi invece c'è lo smisurato campo dell'architettura no? di cui appunto oggi ci siamo molto occupati e al suo interno di questi piccoli segni di cui appunto adesso stavo accennando diffusi sul territorio e io penso che questo terzo livello quello dell'architettura e dei segni diffusi in realtà richiede una riflessione più sottile più complessa no? perché sono più complicati da trattare è importante diciamo fermarcisi con attenzione e magari proprio su questi aspetti su quello che penso io su questi aspetti se volete mi potrei fermare nel secondo giro di questo di questa tavola rotonda grazie 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 tante Lidia anche con questo esempio molto concreto della quotidianità della presenza di questi segni del fascismo nel nel tessuto urbano e non so chi di voi conosce i fasci litori a Piazza Navona che non sono pochi un po' nascosti ma ci sono e quindi questo subito la mente quasi invisibilmente entrano nella nel nostro vissuto urbano come elemento normale però Lidia ha anche parlato di quartiere e quindi di popolazione di quartiere di borghesia medio alta e questo ci porta alla questione delle basi sociali che hanno costituito eventualmente anche un elemento di continuità tra regime e Italia repubblicana Paolo Nicoloso ha parlato dei volantorosi architetti di Mussolini laureati ovviamente quindi di un'elite sociale che ha avuto un'importanza notevole anche dopo il 45 quindi la questione del punto delle basi sociali del radicamento anche di un messaggio politico che in qualche modo sotto la mente poteva continuare è una domanda che vuoi porre a Leonardo Rappone che ha insegnato per lunghi anni storia dell'integrazione europea storia della globalizzazione all'università della Tuscia Viterbo fa parte degli organi scientifici della fondazione Istituto Gramsci è stato incaricato alla preparazione fa parte della commissione per la preparazione dell'edizione nazionale delle opere di Antonio Gramsci direi uno dei maggiori esperti dell'antifascismo in Italia e non provo neanche a citare tutte le sue opere come direttore della rivista Studi Storici ha curato un importante monografico di studi sul fascismo una sorta di bilancio storiografico quindi partendo da lì volevo chiedere a lui come appunto vede il nostro tema odierno da una prospettiva di storia del fascismo prego Leonardo provo a rispondere tenendo presente prospettiva le storie del fascismo e anche dell'immediato post fascismo dunque Nicoloso è stato efficacissimo nel richiamare i principali esempi della vera e propria bulimia costruttiva edificatoria che ha contraddistinto il regime la sua volontà di lasciare durature e imperiture testimonianze di sé nella pietra quel fascismo di pietra che dà il titolo a un libro di Emilio Gentile e che una volontà che si è estrinsecata soprattutto a Roma si è manifestata in tutta Italia ma in modo specifico ha trovato applicazione a Roma perché qui si legava a un'altra ambizione del fascismo quella di rifondare la romanità e quindi di riplasmare la città di Roma in funzione della visione ideologica del progetto totalitario del fascismo quindi una nuova Roma la volontà di costruire una nuova Roma ora quindi a Roma abbiamo a che fare coloro che vivevano dopo la liberazione della città si trovavano alle prese con i problemi della ricostruzione abbiamo si aveva a che fare con un lascito grandioso di costruzione risparmiato dalle distruzioni belliche qui volevo aprire una parentesi perché è ritornato qualche volta ritorna in questi dibattiti la comparazione con la Germania ma proprio stamattina impari che fosse Luca Aroni a sottolineare come questo confronto sia per alcuni aspetti improprio dal momento che si tratta di grandezze tra di loro non commensurabili nel senso che sia per durata sia per che in Italia le distruzioni belliche hanno infierito in misura enormemente inferiore almeno a Roma e non su Roma hanno infierito in misura enormemente inferiore ecco il caso italiano e il caso tedesco sono due realtà tra loro non comparati quindi un lascito grandioso anche se nel senso comune l'eredità architettonica del fascismo è innanzitutto foritalico e l'euro ma in realtà è molto più di questo quindi ecco per ritornare a quel titolo di quell'articolo che è stato più volte evocato e non poteva essere altrimenti oggi di Ruben Ghiat si interrogava il titolo il titolo lo diceva Bartolini stamattina forse particolarmente infelice in cui comunque si prendeva la domanda perché sommenni cioè così tanti ecco ma forse il così tanti non si aveva non dava quell'articolo la dimensione adeguata di quanto fosse ampio il così tanto sicché disprezzo e vituperazione cioè quei due sentimenti di cui la Benghiat lamentava la mancanza nella sensibilità degli italiani d'oggi al cospetto dei monumenti ecco disprezzo e vituperazione se dovessero diventare le molle del nostro modo di sentire dovrebbero avere un raggio di applicazione vastissimo in ragione proprio della numerosità di questi manufatti di queste eredità architettoniche ora caduto il fascismo è prevalsa una logica conservativa una logica volta alla rifunzionalizzazione di quegli spazi quindi non una logica di istruzione ma una logica di nuova utilizzazione di nuovo impiego di come dice un episodio che può essere preso per il suo valore simbolico e poche ore dopo la liberazione di Roma i leader delle correnti sindacali dei tre partiti di massa che le grandi democristiano Oreste Lizzadri socialista e Giuseppe Di Vittorio comunista si recano in via Boncompagni e prendono possesso dell'edificio che era stata la sede della confederazione fascista dei lavoratori dell'industria e sarà in quella sede che il 9 di giugno viene fermato il patto di Roma che dà vita alla confederazione generale del lavoro unitario ora quell'edificio non era stato costruito per la confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ma era stato usato e quella presa di possesso può essere assunta appunto a simbolo della volontà di riutilizzare degli spazi nei quali si era dispiegata l'azione delle regime per restare in ambito sindacale è assai più emblematico un altro prendere in esame un altro edificio quello c'è di Corso d'Italia Corso d'Italia 25 dove la CGL unitaria si trasferisce nel 1946 e che dopo la fissione sindacale del 1948 resta nella disponibilità della Confederazione Generale Social Comunista ed è tuttora la sede centrale della CGL ora bene quello è un palazzo costruito appositamente quindi non come quelli di Boncompagni un palazzo costruito appositamente per essere la sede della Confederazione Fascista dei Laboratori dell'Agricoltura dal 1946 la CGL ha sede di dentro non si tratta solo di un palazzo che per la sua sagoma per il suo profilo è un esempio di architettura fascista ma è da notare anche il particolare dei due altorilievi che figurano ai margini del portone di ingresso al palazzo che sono intonati all'uso che quel palazzo avrebbe dovuto avere a quel tempo cioè la sede della Confederazione Fascista dei Ricoltori e altorilievi che raffigurano uno il seminatore l'uomo seminatore e l'altro la donna come portatrice di pane tra l'altro mamma e portatrice di pane perché è una donna che con un braccio sostiene una cesta carica di pane che porta in testa e con l'altro braccio tiene un neonato stretto stretto a sé ecco quindi questo per dare un'idea della sia della diffusione della moltiplicità dei casi sia anche però dello spirito che anima i protagonisti stessi della lotta antifascista cioè della riutilizzazione e poi gli esempi sono innumerevoli Gian Nicoloso ricordava Palazzo Piacentini che era stata la sede del Ministero delle Corporazioni e che diventa con ritorno alla democrazia la sede del Ministero dell'Industria oggi dello sviluppo economico e poi la Sapienza il Palazzo dell'Ittorio che diventa sede del Ministero degli Esteri la Casa del Balilla a Trastevere che oggi è un centro polivalente gestito dal Comune e il Palazzo dei Marescialli che diventa la sede del Consiglio Superiore dell'Amici Amministratura e questo solo per rimanere agli esempi più maestosi poi si potrebbe raggiungere i ponti diversi importanti ponti nella viabilità di Roma risalgono all'epoca all'epoca del fascismo il Ponte Flaminio il Ponte Luca d'Aosta il Ponte del Vittorio poi ribattezzato Ponte Matteotti e le Chiese perché la volontà di riplasmare il profilo urbano si manifesta anche nell'architettura religiosa in questo caso sono gli architetti al servizio del fascismo che progettano anche in conformità alla loro concezione estetica progettano nuove chiese come quella la Gran Madre di Dio la Chiesa al Sacro Cuore il Cristo Re la Chiesa di San Piero e Paolo inserita nel complesso dell'Ero ecco quindi stante questa vastità dell'ascito era ovviamente inimmaginabile che nuove forze di governo della città e dell'Italia potessero porsi un problema di distruzione l'Italia che esce dalla guerra e alle prese contaglie tanti problemi di ricostruzione di ciò che la guerra aveva distrutto perché potesse aggiungere a questi problemi anche altre distruzioni e connesse ricostruzioni quindi prevale la logica diciamo sì utilitaristica della rifunzionalizzazione direi che ecco appunto forse possiamo riprendere un po' il discorso parallelo con la Germania Germania gran parte dei dei prodotti dell'architettura del nazismo sono stati distrutti dalle operazioni belliche però c'è un edificio che a Berlino miracolosamente non si capisce bene perché è rimasto in piedi integro e intatto ed è il ministero dell'aviazione che era stato il regno di Atman Göring tutto intorno distrutto ma quello resta in piedi e viene rifunzionalizzato prima dalla DEDER diventa la casa dei ministeri ed è tra l'altro avevano c'entra nulla con il discorso di oggi il luogo verso il quale si coagurano le proteste del 7 giugno del 1953 poi represse dei sovietici ma poi dopo la riunificazione quello che una volta era stato il regno di Göring è diventato la sede del ministero delle finanze della Germania riunificata sì c'è stato un cambiamento c'è stato un cambiamento perché la DEDER al tempo della DEDER furono scalpellati via gli altorilievi che che contornavano il portico e che raffiguravano militi nazisti crociuncinate e quant'altro e sostituiti con raffigurazioni ispirate diciamo così per essere dozzinali a un criterio di realismo socialista che mi pare però siano rimasti anche adesso nella Germania nell'uso di quell'edificio come mistero delle finanze nella Germania riunificata ecco qui potrebbe essere un utile spunto ecco analizzare i casi di rifunzionalizzazione di strutture appartenenti a un regime defunto dopo rivolgimenti politici o rivoluzioni che appunto quel regime politico hanno spazzato via mi viene in mente un'altra cosa simbolica in realtà il cremlino ecco quindi ecco questa la logica che guida la logica della rifunzionalizzazione della riutilizzazione io mi dirò ecco appunto gli spazi facevo quell'esempio la DDR quando riutilizza il ministero di Goering però scalpella via gli altorilievi che evocano la simbologia del terzo Reich altro è il discorso per la sopravvivenza di elementi come dire decorativi e simbolici quello è un altro piano secondo me sono le distinzioni quelle distinzioni che evocava la cui necessità evocava Lidia Piccioni ecco andrebbe applicata anche secondo me in questa direzione cioè un conto è il trattamento degli edifici la loro riutilizzazione gli spazi un conto è il mantenimento di orpelli simbolici decorativi che non sono essenziali al mantenimento in funzione di quegli spazi è il caso del famoso monolite del del foro italico o sempre per rimanere nel foro italico il caso del dell'apoteosi dell'apoteosi del dipinto di Montemarini dell'apoteosi del fascismo quindi io distinguerei fra i due fra i due spazi volevo solo fare un ultimo poi mi riservo notamente di riprendere il discorso al secondo giro ecco questo discorso della riutilizzazione nella continuità poi a un certo punto però inceppa in un in un nodo particolarmente significativo che è quello dell'obelisco di Axum perché a lungo l'Italia lo sappiamo ha cercato di conservare appunto nel senso nella nella logica di continuità di mantenimento di un assetto spaziale ha cercato di conservare il possesso di quella preda di guerra strappata nel 1935-36 e questo appunto è uno dei punti dove il discorso della conservazione della rifunzionalizzazione naturalmente incontra le sue più evidenti contraddizioni grazie mille Leonardo per questa riflessione quindi edifici sono da riappropriare eventualmente e da togliere sono la rifunzionalizzazione permette di dimenticare tra virgolette il defunto regime mentre quello che è più una connotazione più ideologica sono le decorazioni e molto importante questa distinzione nell'edificio Corso Italia 25 tra l'altro durante la seconda guerra mondiale cioè l'occupazione tedesca c'era il comando tedesco e sono stati rintracciati anche un po' di documenti nella cantina della CGL molto calzante questo esempio del ministero delle finanze della Germania odierna ci sono anche altri esempi di rifunzionalizzazione degli edifici del nazismo alcuni sono troppo ingombranti e troppo diciamo non hanno più avuto potuto avere alcun uso funzionale razionale e sono rimasti un po' come erilitti del passato e anche questo è un difficile passato però ho sentito un po' l'appello che possa esistere una riappropriazione del passato dopo una ripulitura dopo una impurazione anche degli edifici vorrei porre questa domanda della riappropriazione del passato ai Giambascego che è giornalista e scrittrice e la sua scrittura si muove tra femminismo e prospettiva postcoloniale con Bonpiani ha pubblicato il romanzo La linea del colore che ha suscitato un grande interesse riguardo un evento realmente accaduto un episodio nella storia coloniale italiana che ha lasciato delle tracce dell'urbanistica romana nella piazza del 500 il nome significativo quindi riguarda la morte dei 500 soldati italiani a Dogali in Eritrea nel 1887 è possibile con quale importanza ha il lascito coloniale oggi per gli italiani e per i romani in particolare nel libro Roma Negata percorsi postcoloniali nella città Giambascego ha dato una prima risposta dando voce a chi proviene da quell'Africa che l'Italia ha prima invaso e poi in qualche modo dimenticato almeno rispetto alla propaganda fascista è il mito dell'Africa promulgato tramite giochi per bambini guaderni scolastici parate monumenti quindi è possibile da parte di chi era subalterno di riappropriarsi un pezzo di quella storia e il romanzo il mezzo più efficace per diffondere una buona storia capace di opporsi ad una cattiva memoria per riprendere la formula di Flores citata da Lucia ceci stamattina prego Ijava salve a tutti o no aspettate mi sentite? sì sì parte chiaro sì 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 perché non mi ricordavo se avevo avevo tolto il microfono allora salve a tutti e a tutte e vi ringrazio veramente di avermi invitato ringrazio tutti gli organizzatori è stato molto interessante ascoltare le varie voci io cercherò un po' di portarvi un po' di letteratura non solo quella che faccio io ma proprio su l'idea di romanità e che cosa poi il fascismo ha costruito su questa idea di romanità allora vi volevo citare come inizio proprio un romanzo del 2001 non italiano un romanzo di una scrittrice anglo-nigeriana di nome Bernardina Evaristo che quest'anno ha vinto il Men Booker Prize con un libro dal titolo Girl, Woman, Other però il romanzo che cito invece è uno precedente del 2001 The Emperor Babe dove praticamente lei inventa questo personaggio e le sue vicende abbastanza traggi comiche di Zuleika una donna sudanese però quasi che vive appunto sotto l'impero romano e che diventa a un certo punto la Babe dell'imperatore l'amante dell'imperatore e l'imperatore era Settimio Severo Settimio Severo non è un caso è uno dell'imperatore iniziatore della dinastia dei Severi di origine africana di Leptis Magna e con lui Caracalla e tutti quanti allora è interessante come già questo romanzo ci apre un'idea di romanità transculturale perché comunque Roma era transculturale ci vivevano tutti non era un caso che era un impero quello che fa il fascismo invece è di costruire un'idea di Roma completamente più che bianca ultra bianca no? e di quell'idea di Roma che Mussolini si appropria a me ha sempre molto colpito questa cosa no? cioè Mussolini costruisce una bianchezza che gli italiani non hanno che non hanno mai avuto l'Italia al centro del Mediterraneo e al centro di scambi traffici nel nel seicento c'era la schiavitù di corsa una schiavitù reciproca tra appunto sfonda sud e sfonda nord del Mediterraneo e quindi l'Italia è sempre stata un crocivia no? la parola bianca è qualcosa che è veramente fuori dalla dall'essenza stessa di questo paese perché questo paese è teoricamente meticcio creolo non è non è mai stato bianco però quello che fa il fascismo è appunto quello di costruire questa bianchezza e questo lo si vede benissimo nell'urbanistica quando io e Rino Bianchi Rino Bianchi il fotografo abbiamo lavorato su questo libro ormai nel 2014 è un libro che ha avuto abbastanza una fortuna divulgativa abbastanza forte e eravamo appunto meravigliati dal fatto di questa costruzione dell'urba dell'urbe dell'urbe musoliniana di connettere la Roma antica alla Roma appunto nuova questa Roma nuova che doveva essere la città musoliniale le 42 quell'attuale euro però con tutto un disegno da via dei fuori imperiali costruire una via per le proprie parate arrivare a piazza di Porta Capena passare il Colosseo arrivare a piazza di Porta Capena dove appunto c'era l'obelisco di Axum via dell'impero fino appunto all'euro odierno c'è questo disegno di questa Roma che poi Mussolini nemmeno amava molto Mussolini usava il mito di Roma il mito di Augusto soprattutto non a caso si era portato a casa la stella di Axum come gli antichi romani portavano gli obelischi dall'Egitto Roma è una città di obelischi piazza Navona piazza San Pietro siamo pieni di obelischi e quindi la stella di Axum era l'obelisco del fascismo in questo senso allora quello che abbiamo voluto fare nel 2014 io e Rino Bianchi era di decolonizzare questo sguardo però usando questo fondale questo fondale monumentale fascista e colonialista perché abbiamo scelto dei monumenti non solo fasciste nel nostro libro perché appunto c'è la stella di Dogali che è precedente però che poi il fascismo ha usato ha spostato dalla stella originale e poi per anni e anni fino al 1970 lì c'era il leone di Giuda che è un altro bottino di guerra però questo restituito prima della stella di Axum e quindi abbiamo voluto in qualche modo decolonizzare questo sguardo attraverso un lavoro sull'immagine e sul racconto il racconto è quello che ho fatto io dei monumenti perché mentre in ambito accademico il discorso sull'architettura è andato molto avanti purtroppo non lo è nell'ambito divulgativo nell'ambito in qualche modo quotidiano cioè le persone a Roma raramente sanno perché quella piazza si chiama piazza dei 500 e raramente riescono a vedere queste tracce di fascismo era molto interessante quando la professoressa Piccioni appunto parlava di questi piccoli segni io vicino casa ho un palazzo con una grossa M musoliniana quindi i segni sono dappertutto ma i segni non sono leggibili da tutti e da tutte quindi questo era il nostro era il nostro veramente obiettivo rilettura dei segni e lavoro sulla fotografia perché come sapete la fotografia è stato un elemento centrale della della propaganda del fascismo soprattutto la fotografia fatta ai cosiddetti sudditi coloniali quindi ai sommali come i miei antenati ai liritrei e ai libici e agli etiopi quindi una fotografia inferiorizzante una fotografia che schiacciava che non ti elevava ti buttava giù quindi quello che abbiamo voluto fare le foto le abbiamo concertate insieme la fatterino però sono nate da una lunga discussione e anche da una grande in qualche modo non so apertura amore per il nostro progetto da parte di chi è stato fotografato noi abbiamo deciso di fotografare e di parlare in qualche modo con persone che provenivano da quel corno d'Africa o per origine o perché erano figli di migranti allora in un certo senso c'era nel nostro nel nostro costruire queste foto ve le faccio un po' vedere e questa via dei fori imperiali lui è padre Musi e Zerai padre Musi e Zerai che abbiamo scelto anche delle persone per noi importanti padre Musi e Zerai è qualcuno che tutti i migranti conoscono perché tutti i migranti quando fanno il viaggio per arrivare in Italia hanno il suo numero di telefono tutti gli eritrei e lui ha salvato tante vite prete si sta dando e si è dato da fare tantissimo era in prima linea quando c'è stato il 3 ottobre e tra parentesi il 3 ottobre per noi è stato il motore principale con la tragedia in mane quando appunto sono morti tantissimi eritrei più di 300 e soprattutto quando gli eritrei per la prima volta nella loro esistenza hanno cominciato a rivendicare quel passato in comune dicendo ma noi siamo legati a te Italia perché non ci guardi perché non ci riconosci e c'è stata questa enorme manifestazione molto pacifica più che manifestazione era proprio il funerale funerale che poi non c'è mai stato ufficialmente e c'è stata una specie di commemorazione ad Agrigento i molti eritrei sono venuti a Roma e hanno inscenato un funerale davanti a Montecitorio quindi quello per noi è stato un momento in cui abbiamo capito che i luoghi e le persone dovevano in qualche modo essere raccontati insieme e quindi abbiamo fatto questo lavoro questo è il ponte Duca d'Aosta via le Somalia la stella di Dove la società geografica italiana insomma abbiamo abbiamo fatto questo lavoro ed è molto interessante per noi è stato per me soprattutto le reazioni delle persone cioè le persone che ci raccontavano cosa gli suscitavano queste foto perché poi uno parla di Africa o parla di connessione trafiche Europa però poi alla fine parla di storie di famiglia di persone che hanno la foto che hanno avuto il nonno in Eritrea quanto in Somalia e il luogo serve anche a stimolare una memoria privata e quindi venivano delle persone e soprattutto perché nel capitolo c'è un capitolo appunto dedicato dalla stelle di Axum dove raccontò di Aldomoro e della visita di Haile Salasi nel novembre del 1970 a Roma e lì è una visita stranissima li nascondono la stelle di Axum li fanno fare un giro pur di non farle la vedere eccetera però durante quel viaggio molti italiani escono per vederlo perché in qualche modo era il nemico di ieri ma è anche con l'utile ricordava la loro giovinezza era quello che stava dappertutto nei quaderni nei libri scolastici quindi lo volevano vedere quindi molta gente è uscita è uscita fuori per vederlo dicendo ma non è così alto è basso e altre persone mi hanno confessato che sono stati alcune persone che venivano alle presentazioni erano persone anche di una certa età e mi ricordo un paio di donne soprattutto una a Venezia che mi ha detto io sono una di quelle che ha preso il treno per Milano per andare a chiedere scusa per quello che avevamo fatto noi italiani in Etiopia e quindi uscivano fuori o un'altra donna un'altra signora che mi ha detto grazie al vostro libro ho capito cosa cantava mia madre in punto di morte le reazioni sono state veramente molteplici quindi in un qualche modo il monumento in sé può portare soprattutto la storia del monumento far capire cosa sono questi monumenti può portare anche alla costruzione della memoria privata a me è interessato molto quando si è parlato di ipersensibilità sempre la professoressa Viccione perché quella citazione è interessantissima dalla rimozione dell'ipersensibilità e noi siamo in un momento anche molto particolare della storia globale e in un certo senso siamo in un momento pandemico c'è stato il movimento Black Lives Matter e i monumenti sono ritornati al centro di una discussione globale e cerco di non rubare altro tempo ma questa cosa ve la dico in tre minuti poi magari ci ritorniamo e quindi il monumento non solo in Nord America ma anche in Europa sta diventando qualcosa appunto da cancellare c'è molta discussione cosa facciamo a volte non c'è discussione come è successo a Colston la statua dello schiavista a Bristol che è stato preso e buttato direttamente nelle acque di Bristol con uno sforzo anche diciamo fisico notevole però è chiaro che ogni paese ha la sua storia ogni paese ha una sua connessione con le statue e con i monumenti soprattutto ogni monumento ha una sua storia di rivendicazione per esempio quella di Bristol andava avanti la rivendicazione le proteste da tantissimi anni proteste inascoltate allora è molto importante anche sapere che dentro le proteste non è che è una cieca protesta ma che dentro le proteste c'è una rivendicazione di una centralità dei corpi corpi che per tanto tempo sono stati marginalizzati ed è quello che porta all'ipersensibilità non essere ascoltati non essere inglobati anche in una storia che non è soltanto una storia con la S maiuscola ma può anche essere storia della propria città in quel caso di Bristol allora è chiaro che noi dobbiamo in Italia fare tesoro di quello che è successo nel mondo perché le rivendicazioni adesso qui si sono poste soltanto su una statua che è quella di Montanelli che poi non è nemmeno una statua d'epoca è una statua molto recente però tecnicamente noi ne abbiamo parlato siamo pieni di questi luoghi coloniali quindi ci dobbiamo coloniali fascisti e non solo e ci dobbiamo chiedere oggi cosa fare e come porli in circolo con una cittadinanza con una cittadinanza che ormai è transculturale e che vede magari in quel monumento qualcosa di umiliante o di difficile come riuscire a far dialogare il monumento con i nuovi cittadini che siamo diventati secondo me quella è la sfida io sono per la conservazione dei monumenti naturalmente però in un certo senso faccio mio un consiglio di Gianni Rodari Gianni Rodari nel 1959 in un articolo intitolato post-scritto per il foro perché c'era una grossa discussione tra 59 e 60 sul foro italico perché? perché ci sarebbero state le Olimpiadi no? e Gianni Rodari dice io avrei abbattuto tutto però ok li dobbiamo tenere allora aggiungiamo e quello aggiungiamo secondo me è fondamentale oggi passati tantissimi anni dobbiamo aggiungere e cosa significa aggiungere a parte dei pannelli quando uno va al foro italico scusate al foro italico è tristissimo il foro italico perché è abbandonato quei mosaici sono quasi distrutti l'obelisco pure non sta benissimo a quello famoso Dux sta messo male anche lui quindi noi siamo in una terra quasi abbandonata una sorta di Far West quindi andrebbero restaurate e andrebbero messe un po' di placca un po' di targa un po' di cose però secondo me andrebbe abbiamo la tecnologia andrebbe messo quel luogo in una discussione pubblica e potrebbe essere una discussione arricchente dobbiamo trovare uno sforzo per aggiungere quello che oggi manca e non c'è bisogno di togliere c'è bisogno di aggiungere secondo me questo è fondamentale perché siamo come appunto ci faceva notare nel 2001 Bernardino Evaristo in un'idea di romanità completamente nuova cioè una romanità trasculturale che Roma non deve dimenticare secondo me e con questo spengo lo share ci riesco se ci riuscirò e vi ringrazio grazie 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 per questa riflessione per questi esempi anche la riflessione sull'architettura sulla bianchezza dell'architettura una domanda che vorrei girare anche a Paolo Nicoloso in che misura questo colore veniva percepito dai contemporanei dagli architetti stessi poi mi sembra molto interessante questa proposta di aggiungere qualcosa se non ricordo male anche la Ulth Ben-Ghiat nella nostra prima puntata aveva proposto una sorta di reenactment del monumento una sorta di adattamento creativo anche per trasformare il monumento in qualcosa di diverso poi Giama ha detto una cosa al volo che mi ero scordata di dire secondo me io sono molto d'accordo con Ruth Ben-Ghiat su questo servirebbe anche una monumentistica riparatrice perché oggi questo era importante da dire scusatemi rubo un minuto e oggi dove c'era non esattamente nello stesso luogo però nella stessa piazza piazza di Porta Capena non c'è più l'obelisco di Axum ma ci sono due colonnine che nessun romano conosce che sono tratte appunto dalla fontana della Curia Merenziana messe lì durante la giunta Alemanno era venuta pure Nancy Pelosi sarebbero sarebbe un monumento dedicato all'11 settembre un po' triste perché nessuno sa che abbiamo un monumento dedicato all'11 settembre lì e nessuno nessuno lo percepisce e soprattutto si è coperta la memoria nostra cioè quello che l'Italia il fascismo aveva fatto con un'altra memoria cioè ci sono anche dei cortocircuiti a volte in queste storie dei monumenti o dei luoghi che avevano ospitato i monumenti quindi io sono molto d'accordo con Ruth Ben Ghiat quando dice che abbiamo bisogno di una nuova monumentistica io penso sempre che abbiamo bisogno di una monumentistica riparatrice forse adesso non ci sono nemmeno i soldi però tecnicamente anche un murale di uno street artist non sarebbe male che spiegasse che cosa che cosa era il passato ma non in una situazione di militanza badate bene ma proprio di conoscenza come come le cattedrali medievali no raccontavano il vecchio l'antico il nuovo testamento lo stesso dovremmo fare anche con la storia oggi sì grazie vorrei cioè porre anche domanda la questione ma monumento da quello che è venuto fuori adesso monumento non è proprio monumento cioè nella percezione pubblica odierta prendiamo il monumento ai caduti di Dogali ma tra i romani io temo che non tutti sanno dove si trova e che significa invece tutti conoscono il quartiere africano quindi la toponomastica molto più presente rispetto al monumento quindi quali quali monumenti sono percepiti e presenti sono alcuni un piccolo gruppo eventualmente che hanno un suo plus di di portata ideologica di che hanno elemento di fascistizzazione più più alto da che cosa deriva una domanda che vorrei porre per il secondo giro poi aggiungendo anche la Ruth Nataman chiede dove qual è la memoria dei luoghi dei crimini fascisti e della collaborazione con i nazisti o c'è una rimozione della memoria di quei luoghi dove sono i monumenti antifascisti a Roma che hanno altrettanto significato mentalmente come quelli del regime poi la questione forse anche in che modo è stata posta da Annalisa Capristo anche la una considerazione magari anche a Paola Nicoloso sull'architettura coloniale fascista in nel Doro Caneso Libia Africa orientale c'è ancora una traccia c'è una memoria di questo o un capitolo chiuso quindi vorrei penso che prima Paolo potrebbe intervenire in questo secondo round Sì oddio sono tante sono tante domande ho anche difficoltà a mettere a mettere ordine sul non so sul biancore di cui parla Scego dal punto di vista storico se ne parla poco e riguarda un edificio che non è fascista che è l'altare della patria dove quindi qui mi trovo un po' un po' in disaccordo riprendo un po' quello che ho detto prima che ha segnalato anche Rampone esiste una bulimia architettonica che è un progetto politico del fascismo questo qui è chiaro e che viene in gran parte portato in porto e qui dobbiamo dire anche qui Mussolini vince qui Mussolini qui Mussolini vince insomma si governa con l'architettura si governa con l'architettura si ottiene il consenso con l'architettura e l'architettura è fatta per rimanere per lasciare ai posti l'immagine appunto nei secoli del fascismo come facevano gli antichi romani qui la Margherita Sarfatti che ovviamente lo influenza Mussolini ma c'è questo progetto ecco poi appunto ho detto volenterosi architetti di Mussolini ecco come si comportano questi architetti quando cade il fascismo ecco gran parte ma la stragrande maggioranza della cultura architettonica disconosce il ruolo avuto durante il fascismo ha avuto un ruolo fortissimo sono gli intellettuali che sono a fianco di Mussolini ecco lo disconoscono e cosa fanno rivendicano un'autonomia dell'arte dell'architettura dalla politica Piacentini che è il solito l'imputato numero uno dice io lo scrive sul processo di curazione io non mi sono mai interessato di politica io sono un tecnico sono un artista che Mussolini ha chiamato Palazzo Venezia e quindi c'è questa operazione che viene fatta nel dopoguerra di defascistizzare defascistizzare queste architetture che sono opere d'arte e a cui le sono di grande qualità che sono opere d'arte e che quindi vanno viste come opere d'arte e quindi vanno tolte dal contesto e guardate che moltissima storiografia architettonica vede queste architetture tolte dal contesto ecco sulle sull'eredità di queste opere chi lucidamente si pone il problema già nel 45 è Bruno Zevi Bruno Zevi lo conoscete lo storico il critico dell'architettura ebreo è costretto nel 38 ad abbandonare la facoltà di architettura di Roma e migra prima in Inghilterra e poi negli Stati Uniti nel 45 scrive un articolo che non pubblicherà e non pubblica lui per volontà sua in cui guarda queste architetture di cui stiamo discutendone adesso il palazzo della civiltà italiana l'università di Roma ecco e dice beh io sono io questi qui li vorrei abbattere queste architetture dice e poi ragione e la frase successiva è l'antifascismo lui antifascista non può permettersi questi atti di distruzione no questa architettura dice è una parole testuali è sifilide architettonica è una sifilide architettonica che contamina la scena della democrazia ecco sono degli edifici appestati ecco che cosa dice Bruno Zeri ecco però questi edifici non possiamo distruggerli l'Italia è povera non ha senso distruggerli questi edifici che sono delle offese al costume dice lui che cosa possiamo fare il massimo che possiamo fare dice è togliere la facciata togliamo questa facciata e e ne facciamo un'altra ne facciamo una di architettura moderna l'architettura moderna è quella della 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 democrazia io sinceramente mi sono posto la domanda se questi edifici allora Zeri questo lo dice nel 45 no? siamo in pieno spirito ancora resistenziale ecco e lo dice ecco io mi chiedo se questa domanda se questi edifici ora nel 2020 contaminano ancora la democrazia io credo di no credo che il compito della democrazia è farsi e riconoscere che questi edifici esistono questa è la storia e il compito della democrazia è caricarsi sulle spalle questo peso questa l'ascito del fascismo io credo che questa questo è un senso di responsabilità di non andrei neppure ad aggiungere qualcosa io li conserverei conserverei proprio come testimonianze di che cosa è stato il fascismo di un'abitatura che si è servita dell'architettura per governare le masse per plasmare le masse per condizionarle e per manipolare le coscienze delle persone ecco mi fermo qui perché altrimenti mi sembra ci siano tante voci bene grazie penso che continuiamo direttamente Giro Lidia o Leonardo non so chi prima vorrebbe intervenire su sulle affermazioni precedenti adesso abbiamo tante domande alle quali bisogna che si possono approfondire tante domande Lidia magari grazie forse finire un attimo il discorso di prima che però poi ingloba tutte queste questioni che stanno continuando a uscire che sono così forti io così anche risentendo la prima puntata diciamo dell'istituto nazionale in cui venivano prospettate tutta una serie di soluzioni e oggi ne abbiamo anche riparlato le possibili soluzioni sono tante dalla semplice abbattimento appunto allo spostamento in parti più appartate della città per dare meno rilievo diciamo alle emergenze appunto di memoria fascista a degli riusi ridicolizzanti no? Si diceva appunto nel primo seminario con delle performance più o meno artistiche che in qualche modo li mettono in evidenza però appunto per criticarli e anche ridicolizzarli eventualmente fino a una cosa che è uscita fuori tante volte no? E anche nel dibattito insomma di questi mesi quello di metterci vicino dei cartelli esplicativi no? Di contestualizzarle in modo esplicito quasi didattico diciamo ecco io come dicevo prima io penso che sia importante fare delle distinzioni no? Perché un conto è per esempio la odonomastica e su cui come dicevo io mi sento di essere più netta perché è un messaggio molto diretto tra lo Stato e il cittadino no? Tra l'altro della società civile e quindi io penso che per esempio questi sono proprio i miei pensieri cioè è chiaro che se ne può discutere all'infinito però io penso che sia importante cambiarla subito per esempio dopo no? Una cosa come la fine del fascismo e soprattutto mantenere dopo una sorveglianza sull'odonomastica cioè impedire che in modo più o meno attraverso ci rientrino dentro delle dedicazioni insomma su cui è bene riflettere invece e il secondo livello ovviamente è quello delle statue dei monumenti che ricordano eventi e personaggi no? Anche qua c'è un dialogo direttissimo no? Tra i valori dello Stato e quelli della società civile perché una Stato è un appunto è un messaggio immediato questa persona questa cosa questo evento ha un valore per la nostra società e quindi va no? In qualche modo anche glorificato e infatti sono le prime che poi cadono no? Sono quelle che immediatamente vengono buttate giù dai piedistalli e anche su queste credo che non solo è stato importante a suo tempo fare degli interventi ma è molto importante continuare a fare controllo sinceramente perché appunto poi la storia recente no? Quante volte ci propone invece dei tentativi in qualche modo di dire vabbè però no? Sì è vero era così però era anche no? E quindi ricordiamolo quindi mettiamolo su un piedistallo diciamo nelle varie realtà del paese e io sinceramente se devo dire quello che penso ma è chiaro che qui ognuno ha il suo pensiero rispetto ai segni del fascismo a Roma io penso che o si faceva subito e quello che è stato fatto subito è molto e per fortuna penso io è stato fatto ma certo è chiaro che a Roma non si poteva fare più di tanto come diceva questa mattina giustamente Giorgio Lucaroni cioè è una cosa era un segno talmente pervasivo della città che intervenirci più di tanto avrebbe voluto dire scartavetrarla letteralmente quello che appunto adesso stavamo anche dicendo e penso che farlo oggi sarebbe in qualche modo negativo non solo perché è un documento storico è chiaro che noi facciamo storia e siamo sensibili ai documenti storici ma anche perché farlo oggi servirebbe solo a riportarci ancora di più sopra l'attenzione a scatenarci sopra delle battaglie che ci riportano l'attenzione inoltre credo che molti luoghi che in se stessi erano fortissimamente connotati sono ormai nei fatti nell'uso stati spogliati dal significato originario e di fatto sono stati risignificati e penso proprio alle cose grandi che sono state raccontate oggi la sapienza io appunto sono ai miei 40 anni che da quando ero studente a quando ci insegno vado quasi tutti i giorni alla sapienza la sapienza è chiaro che è un segno è stato un segno fortissimo ma quante cose sono successe poi dopo nella nostra società repubblicana dentro quel luogo da ovviamente l'insegnamento ai movimenti degli studenti a tutto quello che è stato fatto lì e a questo punto quel luogo secondo me è stato fortemente risignificato rispetto al segno iniziale un altro luogo che proprio nella sua diciamo scusate grottesca e forza significante è interessante andarsi a rivedere di cui oggi abbiamo parlato tanto è proprio il foro italico no perché il foro italico è addirittura grottesco per quanto sia ancora legato a quei segni eppure se noi ci andiamo io domenica proprio sempre pensando ad oggi ci sono andata a rifare una passeggiata no se noi passeggiamo nel viale del foro italico oggi che cosa vediamo vediamo i bambini che ci vanno in bicicletta perché è uno spazio largo no e domenica era una bella giornata vediamo quelli che si esercitano con gli skates sbreccando tutti i diciamo i pavimenti no i mosaici che inneggiano al fascismo da tutte le parti ma loro ci passano sopra e neanche li vedono no e poi addirittura è oggi la via maestra di accesso all'olimpico per cui passano tutte le domeniche che ci sono le partite adesso non si possono andare ma insomma tradizionalmente passavano e passeranno le tifoserie no allora sono luoghi dove oggi l'occhio scorre sulle parole e sulle immagini altisonanti del regime di fatto senza vederli più e oggi giustamente Flaminia Bartolini aveva molte cose da dire quindi ce l'ha raccontato in modo veloce però un po' di anni fa Vittorio Vidotto aveva fatto una serie di studi molto puntuali sul fuori talico no raccontandoci non solo le varie tappe della costruzione da parte del regime ma cosa interessantissima i vari tentativi di metterci le mani dopo il regime tra cui come è stato accennato il momento fondamentale delle Olimpiadi del 1960 quello che è stato fatto in quel momento e appunto i saggi di Vidotto lo raccontano momento per momento e sono tutt'oggi secondo me molto interessanti nel 1960 vengono fatte delle operazioni di maquillage su quel viale del fuori talico che sono ancora più grottesche secondo me dei segni precedenti no cioè vengono spostati come sappiamo ci sono dei grandi massi diciamo dei grandi monoliti di pietra scusate con le tappe del regime scandite una per una lungo il viale e nel 1960 le hanno un po' spostate in maniera che le prime cose che si leggono sono quelle che parlano della prima guerra mondiale e non quelle che parlano del fascismo ma subito dopo ricomincia tutta la sequenza fascista e alla fine ci sono tre monoliti che sono stati dedicati alla caduta del fascismo alla nascita della Repubblica e alla Costituzione italiana in un desiderio di diciamo italianizzare nazionalizzare tutto il luogo in modo più generico ma il risultato qual è? è secondo me un messaggio appunto assolutamente grottesco di continuità dello Stato italiano come se niente fosse dalla fondazione del popolo d'Italia fino alla Costituzione alla Costituzione italiana cioè se qualcuno avesse ancora voglia di leggerseli e non lo fa più nessuno il messaggio è quello noi siamo un paese in cui c'è questa fluidità di continuità tra lì e oggi praticamente e a nessuno gli fa brutto dirlo è impressionante allora la mia sensazione è che a rimetterci le mani si possono fare più pasticci che altro e quello secondo me è proprio un esempio molto forte di che pasticci si possono fare i mosaici per terra sono stati un po' restaurati e un po' gli hanno dato sopra un po' di catrame nei punti che gli parevano più brutti ma addirittura c'è ancora un mosaico con una camionetta delle squadracce che andavano in giro nel 19 da fuoco alle sedi democratiche e sta lì e nessuno ha pensato nemmeno di toglierla pur nel maquilage quindi ecco secondo me delle volte rimettendoci le mani rischiamo un ridicolo implicito non il ridicolo della performance appunto artistica che fa diventare verde il monumento per in qualche modo sdrammatizzarlo ma un ridicolo implicito in un tentativo grossolano di metterci una pezza come si dice a Roma visto che parliamo di Roma allora qual è il mio pensiero in definitiva su questi discorsi che stiamo facendo che io sono d'accordo è stata citatissima da tutti e la cito anch'io con quanto però non tanto con l'articolo ma quanto ha detto Ruth Ben-Ghiat nel primo appunto seminario del nazionale e poi che è tornato molto nelle riflessioni oggi delle varie partecipanti io credo che il punto sia proprio quello di lavorare su una informazione su un'educazione del pubblico della società civile dei giovani ma di tutta la società civile una diciamo un'informazione un'educazione non fatta con le etichette con dei cartellini messi vicino ma invece con uno sforzo proprio culturale complesso della nostra società che insegni invece a vedere questi segni è quello che diceva prima Ijabashego no? cioè a vederli questi segni a riconoscerli a saperli leggere no? per che cosa? per prenderne le distanze consapevolmente cioè un messaggio chiaro di dire guardatele queste cose ci sono ancora sono lì che raccontano il nostro passato e da quel passato noi dobbiamo prendere una distanza consapevole non passarci viticino e fare finta che non ci sono o addirittura tutto sommato prenderli come parte del nostro paesaggio e neanche accanircisi sopra no? facendola diventare un luogo appunto di scontro così un po' troppo successivo no? rispetto a quando invece forse sarebbe stato bene che ci fosse ecco quindi io penso che non c'è bisogno di rimuoverli non c'è bisogno di appunto come dicevo prima di metterci le mani ma che invece quello che dobbiamo riuscire a fare è proprio di valorizzarne la funzione di memoria storica consapevole e quindi in tutta la sua complessità per continuare a raccontarci consapevolmente la storia di questo paese bene grazie vorremmo sì adesso Leonardo che dobbiamo avere anche un occhio sull'orologio quindi però prego Leonardo cerchio di essere breve perché quello che diceva adesso sì acceso quello che diceva adesso Lidia Pizioni mi faceva venire in mente sono molto d'accordo con la sua con le sue osservazioni mi faceva venire in mente quei casi di pitture di nudi che in omaggio a uno spirito bacchettone sono stati ricoperti di canisce mutandoni nel corso della storia esempi di questo genere ce ne sono parecchi e quindi il risultato ovviamente è un risultato ridicolo e grottesco volevo poi anche io citare un piccolo ricordo esperienza personale io sono andata a Roma sono sempre vissuta a Roma io non ho mai messo piede non ho mai visitato il Colosseo non sono mai riuscito a pormi diciamo come visitatore come turista in un luogo come dire di che lacrime gronde di che sangue pensando a quella che era la funzione e quali tragedie si sono consumate duemila anni fa all'interno di quello spazio no questo per dire che ogni città che ha un esteso retroterra storica alle sue spalle è chiamata a confrontarsi con vestigia con tracce di un'epoca caratterizzata da principi da valori da usi da costumi che ripugnano alla sensibilità contemporanea o comunque ripugnano a una sensibilità contemporanea ispirata a principi umanistici di rispetto per la persona di rispetto del pluralismo a Roma quanti sono i mucnumenti le tracce di un passato della Roma di una Roma impermiata sullo schiavismo pensavo ecco prima proposito di Berlino facevo l'esempio di paragone con il ministero dell'aviazione beh lì a Berlino ecco tra le altre cose che sono state risparmiate dalla guerra c'è la statua di Federico il Grande centralissima di fronte all'ingresso della Humboldt Universitet rimasta in piedi dopo la guerra la Deder che fa non la distrugge tenete presente che è una statua che non solo celebra il simbolo massimo del militarismo prussiano ma anche significativamente la raffigurazione perché non è la statua nella quale è figgiato solo Federico il Grande ma ci sono altre figure tra cui per esempio c'è la figura di Kant ma che rispetto a Federico il Grande sul cavallo enorme Kant è piccolissimo e la figura di Kant è collocata sotto la coda del cavallo il che vuol dire anche sotto la coda di qualcos'altro di qualche altro organo del cavallo ecco per simboleggiare una certa gerarchia di valori tra la potenza militare e la cultura l'intelletto beh la Deder non la distrugge la Deder però la trasferisce in una collocazione periferica dopo la riunificazione è stata ricollocata rimessa al posto originale quindi insomma il problema di confronti col passato e di vestigia che ci richiamano alla mente principi valori che a noi oggi ripugnano ecco questo problema non è problema solo di confronto con il fascismo ma anche di confronto in Italia con altre vestigia e fuori d'Italia è un problema comune ad altre città che hanno un ampio un ampio retroterra storico per tornare al caso nostro del fascismo saggio da poco uscito su Italia contemporanea Luca Roni qui presente ricordava un atteggiamento oggi molto diffuso che lui stigmatizzava e cioè il fatto come oggi si tende a credere che buona parte dei manufatti lasciati scenerità del fascismo siano delle pregevoli opere architettoniche che sprigionano una validità indipendente dalla loro origine quindi vanno considerate come patrimonio di un'arte italiana senza tempo e senza storia tra parentesi ecco mi ha molto colpito è appena uscito una appena uscita una storia dell'Italia dell'Italia durante il fascismo edita dal mulino scritta da Paolo Nello e la copertina campeggia il famoso palazzo della civiltà italiana del lavoro mi domandavo ecco il perché di questa scelta io francamente avessi voluto effigiare un palazzo evocativo di quello che è stato il fascismo avrei preferito Palazzo Venezia ecco mi domando se invece oggi mettere in copertina il palazzo della civiltà italiana e del lavoro non sia un po' come dire abbia un valore ammiccante un po' come dire presentare la storia dell'Italia durante il fascismo con un'immagine con un effigie che in qualche modo è meno disturbante di quanto non potrebbe essere un'altra tra l'altro è che il palazzo della civiltà della civiltà italiana del lavoro proprio lo scorso weekend era uno dei luoghi che era possibile visitare nell'ambito delle giornate del FAI del Fondo Ambientale Italiano ecco allora quale dovrebbe essere l'atteggiamento secondo me si tratta di un'architettura monumentale le cui origini sono intrinsecamente legate al progetto totalitario del fascismo non sono qualcosa di indipendente e il loro inserimento in un paesaggio diverso il loro adattamento a funzioni diverse non significano però riconoscimento di un lato buono del fascismo non sono il segno di una indulgenza nei confronti del fascismo ma sono sviluppi dobbiamo considerarli sviluppi resi possibili da un rovesciamento politico valoriale etico è la saldezza di una posizione antifascista che consente può consentire un uso disinibito per così dire di quelle strutture e di quegli spazi a condizione appunto che ci sia la saldezza di una posizione antifascista a questa condizione non sono un prolungamento del fascismo dell'oggi insomma se i leader della CGL da Di Vittorio Allandini si sono mossi e continuano a muoversi nel palazzo delle corporazioni sindacali questo non è un atto di subalternità ideologico culturale di confronto del fascismo arriva a dire che se una casa di mode oggi ha preso possesso del palazzo che porta scolpite sulla sua facciata le parole pronunciate da Mussolini al momento della conquista dell'Etiopia beh questo ci vedo qua su una nemesis storica ecco in questo diverso uso di quel palazzo o se i mosaici del fuori italico come richiamava richiamava Lidia sono calpestati ogni domenica da masse umane certo non preoccupate dai destini imperiali dalla nazione ma tutte protese verso la partita di calcio in programma allo stadio olimpico e questa mi pare quasi un'ironia della problema però è tutto nella saldezza della posizione antifascista e questo è tutto un altro discorso però se nell'opinione pubblica italiana ahimè continuano ad aprirsi squarci attraverso i quali si insiduano compiacenze nei confronti del fascismo beh la responsabilità di questo degrado etico-politico non può essere fatta risalire ai monumenti la radice del problema sta altrove i monumenti diventano inoffensivi nel momento in cui c'è una salda posizione antifascista che non vede in quei monumenti un fattore di riabilitazione delle regime e quindi ecco diciamo per concludere perché insomma il tempo è andato io l'interrogativo per ritornare all'articolo al titolo dell'articolo famoso del 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 17 non è perché so many monumenti fascisti sono rimasti ancora in piedi in Italia ma perché so much fascism pervade ancora oggi l'opinione pubblica italiana questo mi pare il cuore del problema grazie è stato quasi un appello finale infatti stiamo arrivando verso la fine della nostra tavola rotonda però abbiamo l'ultimo intervento cioè il penultimo intervento che è quello di Jabba Shego e dopo vorrei pregare a Giulia Albanese di di aggiungere dalla sua prospettiva un commento prego e Jabba allora dobbiamo tenere a mente secondo me anche il periodo storico in cui stiamo vivendo perché praticamente ogni monumento è chiaro i monumenti hanno vissuto fatti durante il fascismo poi sono stati letti in qualche modo diversamente nelle varie epoche storiche però noi siamo in un momento storico in cui quella storia del fascismo ahimè non è non abbiamo un saldo antifascismo dove viene in qualche modo ripresa e rivendicata e non è un caso che poi i monumenti diventano dei poli di attrazione di queste rivendicazioni e le rivendicazioni diventano anche foriere di nuove monumenti noi sappiamo che dal 2012 vicino Roma abbiamo questo obrobbio che è il monumento dedicato a Rodolfo Graziani il mausoleo dedicato a Rodolfo Graziani inaugurato nella città di Affile con un finanziamento pubblico da parte della regione Lazio di allora finanziamento che poi è stato in qualche modo interrotto però il monumento sta lì io non so se siete mai stati ad Affile Affile è veramente qualcosa di veramente lontano dall'architettura razionalista sono due cubi di cui uno è il bagno e l'altro il cubo più grande che sarebbe il mausoleo di Graziani nella collina in cui è situato una collina anche di pregio perché appunto lì c'è un parco al quale dovevano andare i soldi della regione Lazio che sono poi stati stornati per fare questo monumento ci sono delle targhe dedicate alla decima mass e a varie diciamo organizzazioni fascio naziste e quindi non è qualcosa di innocuo assolutamente il primo articolo che è uscito mentre noi non ce ne eravamo accorti è stato quello del New York Times poi dopo un po' ci sono state molte manifestazioni e non solo manifestazioni c'è stata anche a un certo punto una sentenza contro il sindaco e alcuni due assessori che però credo un mese fa sono stati prosciotti da ogni accusa allora noi abbiamo un problema perché comunque c'è una ferma volontà di una minoranza di questo paese per fortuna però una minoranza molto rumorosa di rivendicare quella storia e di rivendicarlo anche a livello urbanistico attraverso dei diciamo politici compiacenti e nella stessa città insomma c'è anche un busto di almirante quindi capiamo anche la situazione del luogo in cui è avvenuto questo fatto ecco perché secondo me un discorso sui monumenti invece storici sia importante perché è chiaro che c'è una distinzione da fare io l'ho sempre fatta penso che il monumento di affile non è un monumento anzi è uno schiaffo alla costituzione nata dalla nostra costituzione italiana nata dalla lotta al fascismo quindi è chiaro che in quel caso dobbiamo parlare di rimozione non è non ci possiamo fare nulla su quel monumento però dobbiamo ricordare che i monumenti che abbiamo oggi parlano a volta a quelle persone lì e a quella purtroppo minoranza rumorosa prima parlavamo del foro italico io sono una che va allo stadio quando appunto si poteva andare allo stadio e le masse umane che calpestano i mosaici del foro italico spesso sono masse di ultra ultra che sono ormai in qualche modo legate a un pensiero neofascista no e io quando vi parlavo prima di romanità e di riappropriazione di una romanità nuova no transculturale e anche attraverso questi monumenti fascisti raccontandoli rimettendoli in circolo lo so per certo perché una cosa che mi è successa di recente è che ho curato un libro per ragazzi era un libro sui rifugiati dove mettevamo insieme rifugiati di oggi rifugiati illustri del passato Dante Enea e abbiamo avuto tantissimi problemi con Enea che appunto molti gruppi di estrema destra ci hanno anche dedicato numerosi striscioni in varie città italiane Orvieto Firenze eccetera dicendo che noi manipolavamo la storia che Enea non era un rifugiato tra parentesi come fa a non essere un rifugiato Enea che si portava a suo padre sulle spalle scappato da una città orientale ecco perché per me è importante questo discorso sulla monumentistica su cosa fare su come spiegare perché molto spesso queste minoranze rumorose hanno molta presa sui giovani quindi questo discorso che può partire anche da semplicemente quando parliamo di riattualizzazione del monumento risignificazione non è che dobbiamo fare per forza dei pannelli possiamo anche farli non sarebbe male però è portare anche dei corpi fisici in questi monumenti spiegarli no? Io penso per esempio a un ragazzo che abita a Parma e a un certo punto si trova davanti non è un monumento fascista ma colonialista un bottego con sotto due tra virgolette sudditi coloniali sdraiati nudi in qualche modo quella cosa lì gliela devi spiegare allora per me secondo me è quel punto del tutto il nostro discorso cioè noi sappiamo cosa significano e sappiamo che chiaramente non dobbiamo in qualche modo distruggerli perché comunque sono elementi storici su quello credo che abbiamo o siamo tutti quanti d'accordo però c'è un assoluto bisogno di divulgare di far sapere di far conoscere e di mettere in circolo questa conoscenza perché se no quello che succede è l'obbrobio che abbiamo visto da file a file tra parentesi il monumento sta ancora lì nessuno lo ha toccato nessuno ha mai parlato di rimozione ogni tanto esce fuori dalla storia infatti una cosa che a me ha meravigliato è che le rivindicazioni quello che prima è stato definito ipersensibilità le rivindicazioni stanno avvenendo oggi sulla statue di Montanelli e nessuno sta parlando di il vero problema che secondo me è il monumento di affile su questo dobbiamo anche secondo me veramente ragionare e lì sì si può arrivare a una sorta di ridicolo come è successo l'altro giorno che è stato è stato inaugurato una specie di flash mob una statua di Sankara vicino a quella di Montanelli e io mi sono chiesto per tutto il tempo Sankara cosa c'entra con la storia italiana che io li voglio bene a Sankara però era proprio una storia che non c'entrava con quello che si stava rivendicando è chiaro che soprattutto nella militanza io vedo dei cortocircuiti molto grandi però è anche importante capire perché ci sono questi cortocircuiti perché chi ha per esempio un'origine altra o chi si sente molto sul campo nell'antifascismo vede che effettivamente ci sono degli attacchi delle attacchi alle persone e degli attacchi al nostro tessuto urbano quindi è chiaro che ci dobbiamo porre noi per primi come intellettuali come voi come accademici il problema di come fare a contrastare quello che sta succedendo ecco per me questo è molto molto importante e devo dire che sono molto grata alle scrittrici che hanno preso di petto io dico scrittrici perché sono state soprattutto donne che hanno preso di petto questa storia coloniale e la stanno rendendo in qualche modo una divulgazione ma una divulgazione intelligente penso due libri io non cito me stessa ma cito altri due libri The Shadow King di Masa Mengiste che sta avendo un grandissimo successo negli Stati Uniti uscirà nel 2021 in Italia e parla delle resistenti etio per fascismo qualcosa che effettivamente non è stato ancora raccontato qui e sarà un libro secondo me molto importante che farà una grande eco in Italia quindi io lo sto aspettando con grande ardore anche perché è candidata al Man Booker Prize è una delle favorite della Man Booker Prize e l'altro libro è di un'italiana Francesca Melandri Sangue Giusto che parte proprio dallo scavo di una ragazza di una donna anzi di una donna matura sul passato della propria famiglia sul passato del padre che lei non conosceva cioè lei conosceva il padre ma non conosceva il suo passato fascista no? e quindi c'è bisogno secondo me oltre che della monumentistica di quello che di fare uno scavo nelle storie familiari io sempre e questa cosa l'ho detta e con questo concludo alle curatrici del prossimo museo che nascerà a Roma e secondo me sarà una casa per tutti noi sarà veramente importante che è il museo italo-africano Italia Ilaria Alpi che aprirà proprio all'Eur in alcuni spazi di quello che è anche il Pigorini e hanno nei loro magazzini molti molti manufatti dall'Africa orientale sarà molto interessante loro quello che vogliono fare è entrare in dialogo non soltanto con l'Accademia qui ma anche con l'Accademia nei paesi che sono stati colonizzati dall'Italia e soprattutto anche chi ha subito l'occupazione nell'Etiopia quindi questo discorso da varie parti da ex colonizzatori ex colonizzati e soprattutto con artisti con società civile con migranti con fili di migranti perché secondo me è quello che ci può far fare la differenza cioè un discorso che diventi un dibattito trans-culturale se no avrà vinto la minoranza romorosa grazie in Giammassego per questo appello alla società civile alla forza della letteratura il libro di Francesca Mellandri ha avuto un grande successo in Germania dall'altro nella traduzione tedesca sarebbe interessante cioè è interessante anche questo appello di non fidarsi soltanto di pannelli esplicativi ho l'impressione che dall'altro è un modello che in Italia non funziona assolutamente non c'è da nessuna parte quasi l'unico posto che conosco dove è stato introdotto questo modello è Bolzano dove contro il monumento alla vittoria è stata messa nel nel basement nel sotterraneo praticamente una mostra che contestualizza il monumento e il regime fascista allora Giulia adesso la parola Giulia Albanese che probabilmente dirà qualcosa anche di commento ma anche di relativa al progetto complessivo che si sta svolgendo nel nostro appuntamento si inserisce in un progetto più ampio come abbiamo già sentito stamattina però Giulia lo sa meglio spiegare di me grazie Luz devo dire che anche questa tavola rotonda ha suscitato in me varie così varie riflessioni e purtroppo non voglio occupare molto tempo però sicuramente ci sono alcune cose su cui sto riflettendo lavorando a questo progetto e che sono emerse qui una è la questione che qui accennava Leonardo Rappone relativamente al fatto che ovviamente il problema non sono i monumenti ma i contesti in cui sono inseriti e perché oggi parlano in altri momenti non parlano o non parlavano e l'altra questione è di cui ringrazio Nicolosi per averla in qualche modo tirata fuori è una cosa che sto pensando e con qualche fatica ed è diciamo l'investimento del fascismo a livello urbanistico e sul territorio che mi sembra sempre più un investimento diciamo difficilmente eguagliato negli anni successivi e quindi diciamo noi dobbiamo anche porci il problema di come l'Italia repubblicana ha voluto dare forma di sé nel territorio al territorio e interrogarci se questa volontà di dare forma e senso sia una volontà che ha a che fare con la dittatura e con un diciamo un pensiero unico diciamo riversato sul territorio se non sia invece possibile in un ambito democratico repubblicano pensare a che cosa si voglia costruire anche attraverso le forme e la costruzione di un territorio questo diciamo è un interrogativo che io mi pongo e su cui mi piacerebbe continuare a discutere però adesso passando al progetto più specificamente noi ci siamo a più riprese e interrogati su che cosa effettivamente valesse la pena mappare perché come avete visto come si è detto anche per il caso di Roma le possibilità sono molteplici ed effettivamente non abbiamo neppure la forza di poter pensare di mappare tutto quindi siamo partiti con l'odonomastica e i monumenti più esplicitamente commemorativi però effettivamente e quindi tralasciando per esempio l'architettura in parte perché è stata molto studiata in parte perché appunto è difficile distinguere tra quello che Nicolosi definiva come edifici che sono dei veri e propri dispositivi identitari e l'architettura più vastamente intesa messa in opera dal fascismo che ovviamente ci richiederebbe di analizzare sostanzialmente gran parte del territorio e gran parte dei nostri centri storici perché vabbè Roma è un problema ma il problema non è solamente Roma ma c'è tutta l'Italia che ha subito che è stata attraversata dal segno del fascismo e quindi questa è una questione l'altra questione è diciamo come diciamo al di là dell'azione sui monumenti nel senso che il nostro primo obiettivo in questo momento è la mappatura di questi di questi segni è anche diciamo che cosa fare con il non visto e con il rimosso no? perché uno dei problemi che sono emersi durante la discussione su questo progetto con gli istituti era la preoccupazione da parte degli istituti che questa mappatura potesse mettere in evidenza il segno del fascismo sulle nostre città e quindi diciamo valorizzare al posto che discutere questo segno e su questo ovviamente diciamo noi abbiamo un approccio da studiosi e siamo dell'idea che le cose bisogna capirle piuttosto che introrializzarle in maniera implicita ma senz'altro anche le sollecitazioni di oggi ci portano a ragionare su che cosa su quali sono le implicazioni di questo non visto no? se le implicazioni sono implicazioni che hanno a che fare con la normalizzazione la naturalizzazione dei simboli fascisti nel nostro immaginario e che quindi diciamo su questo bisogna lavorare o sul fatto che effettivamente diciamo si passa oltre quindi anche su questo mi pare ci siano prospettive di riflessioni che si aprono a partire da questo incontro e con cui sicuramente dovremmo fare i conti mi ha molto interessato il riferimento ai simboli fascisti fatta da piccioni su diciamo diciamo sopra la madonnina perché questo ci porta anche a una serie di altri ad altri diciamo segni che noi non abbiamo calcolato di analizzare ma che sicuramente ci troveremo invece a dover inserire che sono le scritte nelle città i motti fascisti che in varie città troneggiano ancora e che in alcuni casi sono state restaurate quindi diciamo anche con un ripristino di questi di questi segni e che in un primo momento diciamo non avevamo considerato ma che invece sono un segno potente di come il linguaggio fascista è ancora presente nel nostro immaginario e sotto i nostri occhi quindi diciamo queste sono non sono tanto diciamo riflessioni finali sono più una riflessione più una riflessione in progress che per quanto riguarda il dibattito continuerà il 9 novembre come scrivevo in chat con un'altra conferenza dedicata alle città della memoria fascista con quattro casi di studio e che poi continuerà a fine novembre con invece un'altra conferenza sui luoghi e dove ragioneremo su quali sono diciamo i luoghi all'interno della città che commemorano e che sono oggetto di memoria del fascismo quindi spero che potremo essere numerosi anche in quelle occasioni sicuramente il gruppo di lavoro del progetto sui luoghi del fascismo se ne sta avvantaggiando e speriamo che nel corso dei prossimi mesi anche l'inizio del sito sui luoghi e la memoria fascista del Parri possa essere in linea e possa essere diciamo oggetto di un lavoro collettivo che come dimostra l'incontro di oggi deve essere ampio grazie Luz per la possibilità di intervenire grazie Giulia anche io non tento neanche di fare le conclusioni non spetta neanche a me di farle credo che anche a nome di Lucia posso fare i ringraziamenti ai relatrici ai relatori di questa giornata mi sembra importante l'ultima osservazione di Leonardo Rappone che con una una posizione saldamente antifascista ci si può permettere anche la presenza di luoghi del fascismo a meno che non siano oggetti di compiacenza quindi abbiamo avuto una serie di riflessioni un coro polifonico ma non dissonante a mio avviso con tante riflessioni importanti quindi il rischio eventualmente e qui vedo una certa differenza di valutazione da parte di osservatori stranieri forse italiani quando un luogo del fascismo spettacolare diventa un bene culturale da leisure time gli stranieri sembrano più attenti o più inclini a vedere un piano scivoloso mentre gli italiani sono più disposti a vedere anche in questo cioè vederlo nel suo contesto politico sono più in qualche modo a me sembra in qualche modo più fiduciosi nella nella capacità della società di reggere anche questi monumenti e questo lascito questa eredità quindi ringrazio tutti quanti sono molto curioso anche a vedere e sentire i prossimi appuntamenti sul nostro elenco in programma grazie a tutti buona serata grazie a tutti